Sicuramente cambiano gli equilibri e che la Lega sia primo partito in Italia, Marine Le Pen sia primo partito in Francia, Nigel Farage sia primo partito nel Regno Unito, Orban sia primo partito in Ungheria, Kaczynski sia primo partito in Polonia, ETC vuol dire che c'è voglia di futuro, c'è voglia di cambiamento, c'è voglia di lavoro, c'è voglia di dignità. Grazie a tutti.